del sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio, contrariamente a quanto ci vogliono far credere, recita una nota, a Gioia Tauro non esiste alcun ospedale Covid-19 e nel mentre si smantella l'ospedale di Gioia Tauro, compreso il pronto soccorso, il 118, la guardia medica e i poliambulatori. Da una nota stampa di ieri dei commissari Asp, Meloni, Polito e Giordano apprendiamo che con un accordo 4 hanno deciso di passare ai privati i posti letto pubblici. Di fatto, continua Alessio, gli ospedali pubblici, come quello di Gioia Tauro, diventeranno dei lazzaretti perché privati della strumentazione necessaria, dei medici, degli infermieri senza i quali non possono funzionare. Noi non ci stiamo a questo modo di concepire la sanità pubblica in Calabria, che in questo momento è inadeguata ad affrontare l'ordinario e soprattutto l'emergenza da Covid-19, conclude il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio.